Siamo noi, siamo noi, la Corea del... Akhmel ricordami, che Corea siamo noi? Del nord o del sud? Ma quanto sei caprone Akhmel eh? Scusa se te lo dico ma non sei proprio portato per questo lavoro. Noi siamo la Corea del... del... del mannaggia a te che mi hai fatto venire dubbio anche a me. Vabbè ma c'è proprio bisogno di specificare? Vabbè resto sul vago. Forza Corea! Oppa Gangnam Style! E poi dici che non studio. Bravo Akhmel, hai imparato anche inno della Corea, bravo. Grazie. Senti allora per capire meglio il vigile urbano con fischietto è arbitro. Sì. Le due cheerleader elati sono i guardalini. Esatto. Ma chi invece è quello che sta vicino ad allenatori che mostra la tabella coi numeri? Cosa fa? Gioca a tombola durante la partita? Quello si chiama quarto uomo e i numeri che mostra della tabella sono i minuti di recupero che devono giocare. Ah ecco, ha mostrato il numero 14. No, quello non è il recupero. Quello è sostituzione. Entra il numero 14. Perché il quarto uomo fa anche questo. 14 è sostituzione... Ah no, 14 è il recupero. 14 minuti di recupero. Ma come mai hanno dato così poco? Di solito danno una mezz'oretta, tre quarti d'ora di recupero. E vabbè, forse arbitro ha impegno e devo finire prima. A proposito di impegno, Akhmel, ti devo chiedere un favore. Domani devo prendermi un giorno di ferie. Mi ti faresti Cameron, ti prego. Akhmel, stai facendo troppe assenze, Akhmel. Io lo dico per te. Non ti bruciare questo lavoro. Che buon lavoro. Con possibilità di crescita. Anche perché il capo ha preso in appalto la Supercoppa Italiana per il prossimo anno. 70.000 posti di lavoro. Non vuoi sapere l'indiscrezione. Forse si prenderà anche tutta la Coppa Italia qui. Quindi fai bravo. Non prendere ferie. Hai ragione, Akhmel. Non prenderò giorno di ferie. Mi butto malato. Finalmente sta imparando i sani valori occidentali. Ora torniamo a te fare. Certo. Forza Correa di qualunque tu sia.